Ciao e benvenuto ai risultati del secondo quiz time di BTD6. Io come sempre sono Manolax e oggi vediamo i risultati. Era estremamente semplice come quiz quindi ovviamente era lo spalacolla perché è l'unico che non faceva danni e quindi ha fatto zero danni ed è l'unico e adesso faccio un elenco di tutti i vincitori. Ringrazio comunque tutti quanti quelli che hanno partecipato anche quelli pochi che hanno sbagliato ma la maggior parte ha fatto corretto e quindi andiamoli ad elencare. Derek Ferrero, Andrea Lunardi e questi erano tutti. Ringrazio tutti quanti per aver partecipato, complimenti ai vincitori, la prossima volta non sarà così facile e niente quindi ci vediamo al prossimo episodio del prossimo quiz venerdì prossimo. Ciao a tutti!